Adesso do la parola a Pierluigi Pecoraro, consigliere dell'Ordine, quindi come categoria all'interno del Consiglio, come vedete, siete ben rappresentati, avete due consiglieri, ma anche nel Consiglio nazionale siete ben rappresentati, quindi al momento della scelta dei candidati per la nostra tornata elettorale abbiamo tenuto conto delle varie tipologie oltre che della territorialità. Do la parola a Pierluigi Pecoraro, grazie. Grazie, benvenuti a tutti, buongiorno. Difficile dire due parole dopo il discorso del Presidente e poi del collega Gianni. Io sicuramente vedo che il settore della nutrizione e dell'alimentazione desta sempre grandissimo interesse, ne ha una testimonianza oggi e tanti colleghi che non hanno potuto partecipare. Ma io voglio fare una riflessione su un dato ormai già acclarato. Ormai sappiamo che la scienza dell'alimentazione e la nutrizione ha un ruolo predominante nella prevenzione di tantissime malattie e noi dobbiamo giocare un ruolo fondamentale in questa prevenzione, in questa prevenzione nutrizionale. C'è un report recentissimo dell'OMS in cui praticamente l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato nella Regione Europea che il sovrappeso, già il sovrappeso insieme all'obesità, sono responsabili dell'80% dei casi di diabete di tipo 2, sono responsabili sempre il sovrappeso e l'obesità del 55% della malattia ipertensiva e sono sempre responsabili del 35% delle cardiopatie ischemiche. Questo è un dato veramente allarmante perché si traduce poi con più di un milione di morti all'anno e di più di 13 milioni di persone che comunque vivono in una condizione di salute veramente pessima. E quindi su questo sicuramente il primo fattore di rischio modificabile è proprio l'alimentazione. Ma attenzione perché, lo diceva in premessa all'inizio il Presidente, quando parliamo di sana e corretta alimentazione noi dobbiamo fare riferimento, ribadisco, dobbiamo fare riferimento al modello della dieta mediterranea. Perché il modello della dieta mediterranea, il modello nutrizionale della dieta mediterranea è l'unico che oggi ci dà una certezza scientifica. È l'unico modello nutrizionale che nel corso degli anni è stato più volte validato e quindi ha consolidato la sua forza scientifica. E anche nel settore della prevenzione non solo, ma anche come strumento la dieta mediterranea per la riduzione del peso corporeo. C'è una meta-analisi dell'anno scorso fatta da un gruppo di ricercatori napolitani in cui dimostra che la dieta mediterranea, con una moderata restrizione calorica associata all'esercizio fisico, ci può dare dei grossi risultati per la riduzione del peso. Perché questo poi è l'altra grande emergenza del nostro Paese, quella della riduzione del peso, quindi quella del sovrappeso e dell'obesità. Io voglio dare dei numeri perché sono quelli che forse ci fanno ragionare meglio. In Italia abbiamo 4 milioni di adulti che sono obesi e abbiamo 12 milioni di adulti che sono in sovrappeso. E a questi dati possiamo associare i dati dei bambini tra gli otto e nove anni, in cui un milione e cento bambini nel nostro Paese sono in una condizione di sovrappeso e obesità. E la cosa più tragica è che più ci spostiamo verso il sud e più questa obesità dei bambini è in aumento. E allora noi dobbiamo correre sicuramente a dei ripari. Ma fortunatamente su questo aspetto ci sta pensando il Ministero della Salute, con il quale noi dobbiamo stringere dei rapporti. Anzi, inizialmente c'era stato un link con loro per questa conferenza, ma per ragioni di tempo non è stato possibile organizzare anche insieme a loro questa conferenza. Ma il Ministero della Salute sta lavorando molto su questo aspetto. Molti di voi conoscono probabilmente il famoso contenitore che è guadagnare salute. Cioè sono tutta una serie di strategie per filoni dedicate alla prevenzione in generale e in particolar modo alla prevenzione nutrizionale. Bene, noi ci dobbiamo agganciare sicuramente a questo filone e io vedo oggi sicuramente che sono tanti i nutrizionisti che operano non solo negli studi privati, non soltanto nelle strutture ospedaliere, nelle cliniche e altro, ma sono molti i nutrizionisti che si occupano di sanità pubblica. Cioè io vedo oggi un futuro per noi biologi nutrizionisti come ruolo di biologi nutrizionisti di sanità pubblica. Cioè che significa? Significa essere non soltanto bravi nutrizionisti e quindi esperti di alimentazione e di nutrizione, ma significa anche essere capaci di progettare, implementare, gestire e valutare dei programmi di prevenzione nutrizionale. Programmi di prevenzione nutrizionale perché sono gli unici strumenti che noi possiamo adottare se vogliamo cercare di risolvere questa emergenza delle patologie legate alla nutrizione, quindi obesità, sovrappeso e le altre che dicevo prima. In questo contesto io credo che il biologo nutrizionista di sanità pubblica deve saper utilizzare fondamentalmente tre strumenti. Deve essere un esperto di sorveglianza nutrizionale, deve essere un esperto di educazione alimentare e deve sapere utilizzare quelli che sono la base poi di questi due strumenti che sono i LARN. E non a caso noi oggi parliamo di LARN perché nei nuovi LARN, sapete che c'è stata la revisione del 2012 in cui ci sono dei valori di riferimento che noi utilizzeremo non più come prima rivolti soltanto al singolo individuo, ma sono valori di riferimento che possono essere utilizzati anche per gruppi di popolazione. E questo quindi è molto importante come supporto proprio per le due strategie che dicevo prima, cioè in supporto alla sorveglianza nutrizionale e all'educazione alimentare. Detto questo io volevo soltanto fare un passaggio, anche io mi associo chiaramente ai ringraziamenti di Gianni Zocchi a tutto il Consiglio per la sensibilità, al Presidente che già nel congresso dell'anno scorso internazionale a Capri ha voluto dedicare uno spazio intero al settore della nutrizione e quindi lui da sempre si occupa di laboratorio, ma io posso dire che sicuramente è un appassionato del settore della nutrizione e quindi ci sta trasferendo questa passione. Quindi ringrazio i colleghi del Consiglio e in aggiunta volevo dire che io ho un'idea molto specifica di quello che deve essere il nostro ordine condiviso insieme a Gianni Zocchi rispetto alla figura professionale del biologo nutrizionista e i pilastri fondamentali sono tre tutto sommato. Il primo è quello della formazione e dell'aggiornamento, dobbiamo stare al passo con l'evoluzione tecnologica, pensiamo al settore alimentare, a tutto quello che noi troviamo nei supermercati, non soltanto come prodotti tradizionali ma alimenti funzionali, novel food, integratori alimentari, tutta una serie di cose che noi dobbiamo conoscere e seguire nel tempo e poi anche l'evoluzione tecnologica dell'informatica applicata alla scienza della nutrizione. L'altro aspetto invece importante credo che sia la crescita della professionalità del biologo nutrizionista, cioè acquisire quella competenza che ci deve dare quella sicurezza di poter operare in piena tutela non soltanto nell'esercizio della nostra professione ma anche di tutela dall'esterno verso gli abusi di cui già è stato parlato prima, verso tutto questo settore poco scientifico, paranormale, di magico che c'è in circolazione per quanto riguarda il settore della nutrizione. Dobbiamo stare attenti molto a questi aspetti. Se noi riusciamo a fare queste cose io credo che noi possiamo dare un serio contributo anche nella risoluzione delle emergenze che noi abbiamo nel nostro Paese riguardo soprattutto alle patologie legate all'alimentazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vado veloce perché i tempi come al solito sono sempre molto stretti, ricordo solo che questo è un corso accreditato ECM, tutti quanti ormai conoscete benissimo le procedure che si devono fare per poter avere poi il rilascio dei crediti formativi e quindi ricevo la parola al Presidente e poi apriamo la prima sessione. Grazie.